Che spettacolo, Livigno Freeride World Qualifier, la competizione di freeride più alto livello in Italia di tutto il 2015, si è conclusa alla grande. 4 Stelle è la categoria più alta del circuito Freeride World Qualifier, che è riservata solo a 9 eventi in tutto il mondo. In questa giornata sono andate in scena l'adrenalina e l'emozione degli 80 rider in gara, di provenienza internazionale. La gara del Freeride World Qualifier, durata quasi 6 ore, si è svolta in Val Cantone, versante Carosello 3000, ed ha riscosso un immenso successo sia dai rider in gara per la tecnica del versante, sia dei tanti appassionati che hanno seguito l'evolversi di questa competizione spettacolare. Tutto questo nel meraviglioso e suggestivo scenario dalle montagne incantate di Livigno, il paradiso del Freeride con gli European Freeride Festival. Grazie a tutti!